Un anno di lavori al costo di 3 milioni e 300 mila euro e l'ammontare delle opere di assestamento e messe in sicurezza in programma da oltre 20 anni dalla provincia di Brindisi, avviati nei pressi del passaggio a livello situato sulla strada provinciale di Brindisi, nella zona che da Pozzo Facetto nel Fasanese conduce a Torre Canne, interessata principalmente nel periodo estivo, dal transito di numerose vetture di vacanzieri, bagnanti e turisti diretti alla litoranea di Fasano e provenienti da ogni parte della Puglia, maggiormente dalla provincia di Taranto, dal sud barese o da Cisternino. L'autorizzazione all'inizio delle operazioni finanziate da fondi regionali e cipe, che porteranno la ditta GECOS di Andria all'installazione di un cavalcavia ferroviario sulla provinciale Pozzo Facetto-Torre Canne all'altezza della stazione di Cisternino, arriva dopo dieci anni di vicende giudiziarie per il dovuto iter burocratico e dopo la rimodulazione del progetto. Il cavalcavia di Pozzo Facetto era, come dire, ormai un problema giornaliero, che l'utenza che attraversa questa strada è tantissima innanzitutto, gente che va al mare tutti i giorni, ma anche mezzi pesanti. Questo significava intervenire, intervenire quanto prima, perché sappiamo benissimo che tra l'altro qui ci sono una linea ferroviaria anche molto importante dove ci sono tantissimi passaggi di treni e quindi immaginiamo quante volte durante il giorno il passaggio a livello chiude. E pertanto bisognava completare quest'opera. Per fortuna i contenziosi sono terminati, sono durati circa otto anni, otto anni di contenzioso che se riuscite a chiuderlo speriamo bene anche per il seguito. Però abbiamo rivisto il progetto, abbiamo lavorato in questi due o tre anni molto velocemente per trovare anche sintonia con le ferrovie. I lavori di notevole entità e studiati nei minimi dettagli dovrebbero durare circa un anno, anche se l'amministrazione provinciale ha chiesto alla ditta appaltatrice la possibilità di ridurre la tempistica per scongiurare il prima possibile i problemi di coda, rallentamenti e sicurezza che caratterizzano la zona ormai da decenni. Come avete visto noi stiamo lavorando in tutta la provincia, dalla parte sud alla parte nord alla parte centrale. Avevamo fatto appunto quella conferenza stampa con la planimetria di tutta la provincia. Avevamo indicato le opere più importanti da realizzare e in questo momento stiamo iniziando un'opera che si doveva realizzare da più di vent'anni. eravamo fiduciosi, era il nostro obiettivo. Questa zona meritava questo lavoro, tra l'altro tutte le province, non soltanto quella di Brindisi, anche dalla provincia di Taranto, Martina, quindi Locorotondo, Bari. La gente si riversa al mare qui a Torreganne e purtroppo ci sono chilometri di coda a volte durante l'estate perché c'è un passaggio a livello e non è giusto tra l'altro nel 2012 che si possano verificare di questi disagi agli automobilisti e quindi ai cittadini.